Queste progettazioni che stanno sul territorio, si parlava anche di un progetto per le fogne a via Foce, e che tutti gli altri cantieri si sono aperti, quel progetto a via Foce non si è aperto. Allora i soldi lì si sono persi, il progetto non si farà più. Il progetto per l'acqua piovana col battitubo sotto il ponte, allora quel progetto praticamente è saltato, non avverrà più. La fogna a via Iasolino, che è qualcosa di orrendo che è stata fatta, non ti dico, anche a livello di inquinamento, sono passati 4, 5, 7 anni, adesso non ricordo più, ormai i tempi non li ricordo più. Noi viviamo, guarda, in un ambiente assurdo.